In studio Veronica Puglisi. Buonasera, lo avete sentito dai titoli di prima pagina. È soddisfatta Maria Rita Schembari, sindaco di Comiso, per l'esito positivo della conferenza di servizio Stato-Regioni che si è svolta questa mattina a Palermo sulla continuità territoriale. L'aeroporto di Comiso ha scelto in continuità territoriale di utilizzare i 28 milioni di euro per bandi nei confronti di compagnie aeree per le rotte per Roma e Milano. Le rotte dovrebbero essere già attive dal 1 agosto. Già dal 1 agosto potrebbero essere attive le rotte con le agevolazioni della continuità territoriale allo scalo casmeneo. Si è parlato di questo stamattina a Palermo nel corso della conferenza di servizio Stato-Regioni per la continuità territoriale, presenti per Comiso, i vertici di Suaco e il sindaco Maria Rita Schembari che esprime soddisfazione per l'esito positivo dell'incontro. Molto contenta della conclusione di questo ITER che seppur in ritardo giunge al suo atto finale, ora la palla passa al Ministero dei Trasporti per la posizione della firma del Ministro al decreto e la pubblicazione nei tempi più celeri possibili. Ottimisticamente possiamo pensare che l'attivazione di questi voli potrà avvenire dal 1 agosto 2020. Comiso sarà collegato due volte al giorno andato e ritorno con lo scalo romano e una volta al giorno andato e ritorno con uno dei tre scali milanesi. Uno dei tanti passi in avanti che si stanno facendo per rilanciare l'autoporto di Comiso, ha dichiarato il sindaco, che i nostri microfoni aveva già anticipato i prezzi agevolati per voli da Comiso con tariffa 38 euro per Roma e 53 euro per Milano. Sono diversi i finanziamenti previsti nel 2020 per le zone del Ragusano e del Catanese da parte dell'assessorato regionale alle infrastrutture, come sottolineato da Marco Falcone durante un incontro con l'Ance Sicilia. Spesi, fondi europei e messe in gare varie opere, ma adesso si guarda al futuro e in questo futuro ci sono tra le altre cose l'ex palazzo delle poste di Catania e gli interventi sulla Siracusa Gela nel tratto Rosolini-Modica. Lavorare sulle varianti di Vittoria e di Alcamo, sollecitare il CAS per portare a termine gli interventi sulla Siracusa Gela nel tratto Rosolini-Modica e poi ancora 45 milioni di commandi pubblicati per gli accordi quadro sulla viabilità provinciale, compresi anche il Ragusano e il Trapanese. Ma anche il finanziamento per la tratta della metropolitana di Catania e piazza Sesicuro fino all'aeroporto, nonché lavorare sull'ex palazzo delle poste della città Etnea per abbatterlo e per costruire la nuova cittadella giudiziaria. Sono solo alcuni degli auspici e dei progetti per il 2020 e l'assessore regionale delle infrastrutture Marco Falcone, che ha incontrato i vertici del lancio Sicilia per tracciare un bilancio del 2019 e per parlare del 2020. Anno in cui i comuni potranno bandire le gare dei progetti finanziati con i 630 milioni dei fondi territorializzati al POFERS, che hanno scontato ritardi legati alle complesse procedure per organizzare i programmi e rispettare le regole imposte dalla comunità europea. Nell'agenda 2020 e l'assessore regionale delle infrastrutture Marco Falcone sono segnate molte altre date importanti. Un vertice con l'ANAS il prossimo 23 gennaio per provare a sbloccare i 5 grandi progetti, fra i quali l'8C1 della Nord-Sud, che sconti il definanziamento operato nel 2013. A giugno in gare lavori RFI per riaprire la ferrovia da Alcamo verso Trapani per circa 204 milioni di euro. E poi ancora le gare per quanto riguarda RFI di ammodernamento e le stazioni in direzione Catania e Augusta, dei binari sulla Palermo Agrigente e sulla Palermo-Trapani via Castelvetrano e l'intervento per riaprire la Caltagirone Gela. L'impegno anche a rispettare quest'anno è il target di spesa dei fondi dell'Unione Europea e il via Libra due grandi opere, il centro direzionale della regione a Palermo per 400 milioni di euro e appunto la demolizione dell'ex palazzo delle poste. Falcone ha anche parlato dell'importante finanziamento dei patti per il sud, così come del puntuale aggiornamento annuale del preziario regionale. L'assessore ha anche sottolineato il continuo pressing esercitato sull'ANAS per sbloccare i tanti cantieri fermi lungo l'autostrada Palermo-Catania. E adesso la cronaca, esami clinici non necessari su bambini prematuri in cambio di soldi e il ricatto a cui un medico dell'ospedale San Marco di Catania sottoponeva i genitori di questi bambini prematuri, esami da effettuare in regime I di Intramenia in modo da poter intascare il denaro. Il medico è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari. Obbligava genitori di bambini prematuri a effettuare sui propri figli esami medici non necessari in cambio di denaro e l'accusa mossa dalla procura di Catania contro un dirigente medico in servizio presso il reparto di neonatologia del presidio ospedaliero San Marco di Catania. Le innagini eseguite tempestivamente dal personale in servizio presso la sezione di Polizia Giudiziaria e della Polizia di Stato hanno consentito di fare luce al momento su quattro gravi episodi concursivi, due in forma consumata e due in forma di tentativo tra settembre e ottobre del 2019. Secondo quanto si è accertato, il dottore, dopo aver effettuato i controlli di routine a spese del Servizio Sanitario Nazionale, prospettava ai genitori dei piccoli pazienti la necessità di effettuare ulteriori ecografie cerebrali, in realtà del tutto inutili, e approfittando della preoccupazione ingenerata intimava i genitori stessi di eseguire l'esame ecografico in regime di intramenia, corrispondendogli quindi delle somme di denaro, prospettando che in caso contrario si sarebbe rifiutato di eseguire l'esame. Posti di fronte a questa alternativa i genitori si vedevano costretti a eseguire il pagamento della prestazione intramenia, al fine di far sì che i propri figli potessero essere sottoposti a accertamenti che ritenevano necessari, in ragione di quanto aveva loro detto il medico. Le innagini e la conseguente misura cautelare disposta dal GIP su richiesta della Procura hanno consentito di interrompere tempestivamente le condotte criminose poste in essere dal dottore nell'esercizio della delicatissima funzione cui è preposto. Intanto proseguono le innagini per la individuazione di altre vittime. I fatti contestati dalla Procura di Catania al medico dell'ospedale San Marco, qualora fossero confermati, sono di una gravità inaudita. Lo dice l'assessore regionale alla salute Ruggero Razza, se è vero ciò che sostiene l'autorità giudiziaria prosegue la nota. L'episodio in questione getta discredito sull'intero sistema sanitario regionale, danneggiando i tantissimi operatori che quotidianamente operano con onestà e nell'esclusivo interesse della salute dei cittadini. Per questo auspico che venga fatta a piena luce senza alcuno sconto. Come da prassi e ai sensi del contratto di lavoro, conclude Razza, l'azienda attiverà un procedimento disciplinare nei confronti del medico coinvolto nell'inchiesta con sanzioni che potrebbero arrivare fino al licenziamento. Dubbi sempre più pesanti e scottanti sull'omicidio di Peppe Lucifora. Due mesi fa lo chef veniva massacrato nel suo appartamento di largo 11 febbraio a Modica. Può un delitto di impeto non lasciare traccia? Può un raptus diventare un omicidio perfetto? Non sono stati ancora resi noti i dati scientifici dei RIS di Messina concernenti i campionamenti eseguiti. Il 10 novembre il cuoco dell'ospedale di Modica, il personaggio che tutti apprezzavano per il suo vario pinto look che esaltava la tradizione nostrana, veniva massacrato. Peppe Lucifora, un uomo considerato da tutti buono, estroso e sempre tra la gente. Le indagini dei carabinieri hanno portato a dei sospettati che però hanno presentato un alibi di ferro. Solo i dati scientifici potrebbero dare il volto dell'autore del crimine. Ma c'è ben altro perché dietro il volto c'è una storia e la tesi di due amanti che litigano oramai non convince più. La fa cadere il ritrovamento di ingenti somme di denaro nei conti di Lucifora, somme da capogiro che, con ogni probabilità, erano note all'assassino. Cosa voleva l'omicida di Peppe? Tra i due ci sarebbe stata dell'intimità, ma adesso viene anche il sospetto, e solo i dati scientifici potranno darne atto, che la scena del crimine possa aver subito delle variazioni. Strano, sì, ma non è da escludere che per depistare l'assassino abbia potuto modificare l'abbigliamento di Lucifora. Sono supposizioni che trovano legame nel trascorrere del tempo che, ad oggi, non ha permesso agli inquirenti di incastrare l'omicida. Si pensi, infatti, che dal tablet e dai campionamenti allo stato attuale non emerge un sospettato a imposizione tale da essere convertito dagli inquirenti in un indagato a il motivo economico. Potrebbe comunque avere un peso specifico sostanziale rispetto al semplice delitto passionale. Le indagini dei carabinieri continuano. All'interno del comune di Ragusa, clientelismo e favori per agevolare cittadini. E' quella che sta mettendo in luce il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, che ha avviato un'indagine interna agli uffici. Un esponente di partito, secondo il primo cittadino, con la complicità di alcuni uffici, ha avuto accesso agli sportelli in chiusura per sbrigare servizi e pratiche a favore di alcuni cittadini. In me è inaccettabile. Una volta constatato che c'è questo mal costume, abbiamo avviato un'indagine interna negli uffici. Però è qualcosa che è giusto che venga fuori nella gravità che in effetti ha. Sfruttare amicizie e influenze per ottenere consensi tra i cittadini. Gravi le parole del sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, che ha messo in luce favoritismi e clientelismo all'interno degli uffici comunali. Secondo il primo cittadino, un esponente di partito, con la complicità di alcuni uffici, ha avuto accesso agli sportelli nelle normali ore di chiusura al pubblico, per sbrigare pratiche in favore di altri cittadini. Non possiamo tollerare un fatto simile, arriva Dito Cassì, un mal costume che denota una mentalità che non ci appartiene. Diciamo che sto facendo un'indagine interna negli uffici, però voglio evidenziare quello che è accaduto. Purtroppo mi risulta essere accaduto anche in passato. C'è il mal costume di qualcuno che crede di poter entrare negli uffici del comune di Ragusa e svolgere dei servizi in favore di altri cittadini. per sbrigare alcune pratiche e per in questo modo superare la normale trafila che in questi casi bisogna fare. Diciamo che è qualcosa che è successo. Purtroppo sono dei rappresentanti di una parte politica ragusana che in questo modo acquisiscono consenso da parte di concittadini che abitano in frazioni o in contrade che avvalendosi di questo tipo di collaborazione che è una collaborazione inaccettabile per noi, svolgendo queste attività si procurano dei favori e in qualche modo rendono un servizio in debito, nel senso che comunque negli uffici chi va deve rispettare le file, deve andare negli orari in cui gli uffici sono aperti. Non si può pensare che ci possa essere un favore verso qualcuno piuttosto che verso qualcun altro. Il primo cittadino ha dichiarato inoltre che un altro esponente dello stesso partito ha agito nella stessa maniera. Non ci prestiamo a fianco di questo sistema, ha aggiunto. Crediamo che sia un sistema di far politica totalmente inaccettabile, non condivisibile. Non so sinceramente se si configura un reato penale da questo tipo di comportamento. Certamente è un comportamento in debito, ingiusto, che noi non accettiamo e non tolleriamo. Spiegato il motivo della mancata presentazione della candidatura di Ragusa a capitale della cultura 2021, il sindaco Peppe Cassi risponde a quanto riportato dai consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle. Una polemica inesistente che non aveva motivo di essere neanche sollevata, ma che ha trovato subito terreno fertile nella strumentalizzazione che è tipica del Movimento 5 Stelle. E' questo il senso della risposta del sindaco di Ragusa, Peppe Cassi in riferimento alle pubbliche accuse nella giornata di oggi da parte dei componenti del Movimento 5 Stelle a Ragusa, in riferimento alla mancata candidatura della città a capitale italiana della cultura per l'anno 2021. Sarebbe bastato aver letto lo stesso bando o anche solo i giornali per sapere che la città, o meglio, le città che avevano partecipato alle selezioni per il 2020, come Ragusa, tra l'altro, proprio sotto l'amministrazione dei 5 Stelle, non avrebbero potuto nuovamente partecipare. Ancora una volta i grillini sono stati traditi dalla tentazione di uscire sulla stampa prima di avere contezza dei fatti, che proprio loro, più di altri, dovrebbero conoscere benissimo, sottolinea il sindaco. Prima di scrivere comunicati, a volte, converrebbe leggere. Valutazioni sono in corso invece per candidarsi al prossimo bando di capitale cultura, un processo che non vogliamo avventato, ma che deve passare dal coinvolgimento di tutte le forze della città, culturali e non solo, conclude la nota a firma del sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, che risponde alle pubbliche accuse dei grillini sulla mancata candidatura della città di Ragusa a capitale della cultura 2021. Il sindaco Giannone ha ufficializzato la sua nuova squadra assessoriale, confermati tre nomi su quattro, entrano in giunta Bruno Mirabella ed Emilia Arrabbito. Non è un fatto estemporaneo, è la normale conclusione di un dibattito, di un percorso politico che è durato circa un anno, cioè partito alla fine del 2018, quando il sindaco ha detto abbiamo riportato nella città la normale vita amministrativa, ora dobbiamo riportare la normale vita politica. Un'operazione che lancia al futuro e che potrebbe diventare modello nazionale, secondo il sindaco di Sci Clienzo Giannone, l'azzeramento della giornata di ieri, con la rimodulazione delle deleghe, è stata un'operazione fondamentale e importante. Ma di fatto, andando a guardare la fotografia della politica ciclitana, si va sostanzialmente a delineare la totale fiducia nei confronti del percorso tracciato dal sindaco Giannone. Il percorso si è concluso con la definizione della giunta, ma soprattutto si è concluso con un consolidamento di una forte maggioranza consigliare, che possiamo definire di centro-sinistra, in cui i valori del civismo democratico si saldano con i valori della solidarietà, della tutela ambientale, dello sviluppo sostenibile, tipici di un riformismo di sinistra, e che ha consolidato il suo agire in Consiglio Comunale, approvando gli atti più importanti del Consiglio Comunale, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e i debiti fuori bilancio. La conclusione logica era che si desse voce, rappresentanza autorevole, anche in amministrazione e anche in giunta, a queste nuove stanze. Confermati dunque il geometra Fiorilla, l'architetto Pitrolo, l'avvocato Riccotti, entrano invece in giunta Bruno Mirabella ed Emilia Arrabito. Per quanto riguarda le deleghe, Caterina Riccotti resta vice sindaco e avrà affari generali e del personale, affari sociali e scolastici, cultura, centri di incontro, politiche giovanili, rapporti con il Consiglio Comunale. Viviana Pitrolo invece avrà lavori pubblici, mobilità sostenibile, pianificazione territoriale e urbanistica, patrimonio. Ignazio Fiorilla invece avrà finanze, manutenzioni, servizio idrico, servizi cimiteriali, borgate, protezione civile, autoparco, sport. Ignazio Bruno Mirabella invece il CED, ecologia, igiene pubblica, igiene pubblica e ambientale, tributi. Emilia Arrabito invece il controllo interno di gestione e sviluppo economico, SWAP, turismo, agricoltura, sviluppo di continuità, finanziamenti europei. Il sindaco invece ha trattenuto per sé la delega alla Polizia Municipale, alla sanità, alla tutela degli animali e a tutto quanto non è stato specificato. Resta fuori dal disegno iniziale di giunta solamente l'assessore Iabbichino che per qualche mese aveva ricoperto l'incarico del bilancio lasciato vacante dopo le dimissioni di Vindigni. E parliamo adesso del castello dei conti di Modica perché l'amministrazione approva il regolamento. La polemica per il sindaco Abbate è chiusa, poi domani però è pronta ad una denuncia formale. Se da una parte i carabinieri nella giornata di oggi sottolineano come il procedimento ad accertamenti lanciato ieri per il party al castello può approfondirsi e prendere reale vita investigativa solo ed esclusivamente dopo notizia di reato ancora non ricevuta al momento né da privati cittadini né da parte dell'autorità giudiziaria, dall'altra la festa privata al castello dei Conti la sera del 5 gennaio ha portato sui social ad un dibattito ampio e ben articolato sul tema. Tra l'altro su Facebook si apprende che l'evento del 5 gennaio non era l'unico in quanto nei giorni precedenti al 5 gennaio già altre feste si erano svolte all'interno del Palazzo dei Conti di Modica. Intanto ieri l'amministrazione Abbate ha pigiato sull'acceleratore ed ha approvato il regolamento. La Giunta si è riunita ieri e lo ha disegnato ed approvato sulla scorta anche delle precedenti esperienze fanno sapere dal Palazzo di Città dove viene anche ribadito come ancora i lavori non siano terminati e che a breve il castello sarà interamente fruibile. Alla notizia di mancati accertamenti da parte delle forze dell'ordine l'Avvocato poi domani ha fatto sapere che vista la mancanza di un'azione concreta da parte della Polizia Giudiziaria e dell'autorità nonostante l'ennesima denuncia pubblica sarà pronto a presentarne una formale per esortare così le forze dell'ordine a prendere visione di quanto è accaduto realmente nel periodo natalizio al Castello dei Conti. Sulla festa non sono mancati gli interventi da parte delle altre forze politiche di opposizione che hanno condannato fermamente quanto è accaduto ed hanno chiesto gli incartamenti. Ad intervenire anche Centopassi e Movimento 5 Stelle. Con l'approvazione del regolamento facciamo un passo avanti importante nell'interesse della città commenta invece il sindaco di Modiche Ignazio Abbate che dichiara essere chiusa questa vicenda. Ancora spazzature in via Villa Flaminia Catania la via al confine tra la città etne e mister bianco che in passato sono intervenute per recintare alcune aree adesso però nelle zone non recintate di terreni appartenenti anche a privati la spazzatura aumenta sempre di più senza tralasciare altri disservizi lamentati dai residenti. Siamo in via Villa Flaminia una via al confine tra il comune di Catania e il comune di mister bianco di questa via ci siamo occupati spesso all'interno del nostro telegiornale perché tante le segnalazioni che arrivano dal consiglio circoscrizionale dai residenti perché? Perché ci sono tanti rifiuti abbandonati in mezzo alla strada problema che in parte era stato risolto grazie a delle recinzioni che sono state apposte lungo la strada per evitare il lancio della spazzatura ma in quelle zone dove purtroppo non c'è la recinzione le immagini sono davvero raccapriccianti c'è di tutto qualsiasi tipo di rifiuto ma soprattutto rifiuti pericolosi ad esempio l'Eternit che diventa nocivo anche per la salute degli abitanti che in questa strada abitano strada con tante traverse nelle quali la spazzatura abbonda. Qui respiriamo aria impura poi anche tramite le solicitazioni non hanno fatto mai niente i proprietari del terreno se ne sono sempre fregati non hanno messo mai delle recinzioni infatti io e mio padre abbiamo messo delle recinzioni di pietre per non far entrare nessuno ogni settimana entravano delle persone con dei camion per scaricare Edernit spazzatura e altre cose però mai nessuno si è interessato di questa situazione. Accanto a Via Villa Flaminia c'è anche Via Vigne Nuova un'altra strada completamente abbandonata manca l'asfalto manca l'illuminazione e c'è tanta spazzatura. Praticamente essendo che una strada lasciata così ne approfittano per buttare spazzatura e noi ogni giorno siamo costretti a fare segnalazioni comuni di Catania comuni di Mister Bianco il problema fondamentale è che da un lato è Mister Bianco dall'altro è Catania noi non sappiamo a chi rivolgerci perché in quanto non ci danno aiuto cioè sembriamo abbandonati a noi stessi con tutto ciò che paghiamo regolarmente le tasse. Grazie a Dio c'è qualcuno che tra di noi ci facciamo forza e puliamo con una mano ciascuno puliamo da soli in pratica. Chiedo all'amministrazione sia il comune di Mister Bianco sia il comune di Catania che fa un protocollo d'intesa in modo che i residenti che abitano qua abbiano dei servizi cioè praticamente i residenti pagano le tasse ma hanno un servizio di serie B. Ci fermiamo c'è la pubblicità Grazie a Dio c'è la pubblicità Seconda parte del nostro telegiornale presentate questa mattina nella sede del Corfilac di Ragusa le iniziative a sostegno del ragusano DOP obiettivo incentivare un'attività di promozione che raggiunga il mercato locale e la grande distribuzione presentare una serie di iniziative volta alla promozione e valorizzazione del ragusano DOP è l'obiettivo dell'incontro di questa mattina che ha visto protagonista nella sede del Corfilac di Ragusa i rappresentanti del Consorzio della Ricerca della Filiera Lattiero Casearia l'amministrazione comunale gli esponenti del Consorzio di Tutela del ragusano DOP L'occasione per illustrare alla stampa le iniziative e le misure messe in campo per la promozione di un prodotto d'eccellenza nel mercato locale e nella grande distribuzione è stato sottolineato Importante in questo contesto la sinergia dell'ente locale con la filiera Lattiero Casearia Noi lavoreremo intanto sulle relazioni con la grande distribuzione e con il settore commerciale in genere perché il punto è trovare il modo visto che non è molto consumato trovare il modo per renderlo visibile all'interno dei punti vendita cioè il ragusano il visitatore, il turista che entra anche nei settori commerciali deve vederlo deve vedere che c'è questo prodotto che guarda caso si chiama ragusano quindi più prodotto nostro di così veramente per cui questo vogliamo fare e lo faremo anche attraverso la creazione di piccole vetrine ma potrebbero un giorno diventare anche piccoli punti vendita ma intanto parliamo di vetrine all'interno di quei siti che sono strettamente turistici come possono essere il porto turistico di Marina di Ragusa piuttosto che anche a Pozzallo piuttosto che al porto di Catania dove approdano anche le navi da crociera queste iniziative seguono a quelle già messe in campo dal consorzio di tutela del ragusano DOP l'iniziativa ultimamente soprattutto è la porzionatura che abbiamo lanciato per il libero servizio che è molto importante sia nel territorio che fuori abbiamo visto che è molto apprezzato come iniziativa soddisfatto delle attività avviate il direttore del consorzio di tutela del ragusano DOP Enzo Cavallo noi siamo grati per questa disponibilità siamo pronti a fare tutto ciò che è necessario per ulteriormente migliorare la organizzazione non solo del consorzio ma anche della filiera produttiva siamo sicuri che non lavoriamo solo per un prodotto pur di eccellenza ma lavoriamo ancora una volta a difesa del territorio Essenziale è stato detto il contributo del Corfilac è un'iniziativa lodevole come dicevo importante nella quale il Corfilac farà la sua parte per quelle che sono le attività di competenza che è quello che noi possiamo fare con le nostre professionalità per quanto riguarda tutte le iniziative che dovranno essere messe a punto nell'ambito di questa attività in collaborazione anche con il consorzio del Ragusano DOP Giornata di prevenzione sulla talassemia all'Istituto di istruzione superiore Archimede di Modica con la Fasted ai ragazzi delle classi quinte è stata data l'opportunità di effettuare degli screening gratuiti Talassemia e demoglobinopatie da tempo si fanno campagne di sensibilizzazione su questi temi soprattutto tra i giovani e sebbene i ragazzi di oggi siano continuamente bombardati di informazioni la scuola si pone come canale privilegiato per informare e sensibilizzare su temi importanti ed è in questo contesto che all'Istituto di istruzione superiore Archimede di Modica stamattina si è svolta una giornata di prevenzione con la Fasted la federazione e associazioni siciliane di talassemia ed emoglobinopatie abbiamo ritenuto importante per noi come scuola riuscire a dare ai nostri ragazzi queste informazioni questa conoscenza per aumentare il loro grado di sensibilizzazione grazie all'associazione Fasted di Raguso oggi abbiamo svolto questo incontro con le classi quinte sulla talassemia principalmente quest'opera di informazione e di sensibilizzazione credo sia una delle nostre attività più importanti nei confronti dei ragazzi noi abbiamo fatto informazione e prevenzione per quanto riguarda le emoglobinopatie abbiamo fatto anche promozione perché cerchiamo di sensibilizzare le persone alla donazione del sangue perché gli emoglobinopatici hanno bisogno delle trasfusioni la medicina ha compiuto diversi passi in avanti per lo sviluppo di cure per la talassemia e per le emoglobinopatie migliorando la qualità ma anche le aspettative di vita dei pazienti questi ragazzi che prima purtroppo erano destinati a morire a 10-15 anni adesso grazie alle terapie hanno la nostra età hanno messo su famiglie studiano hanno una qualità di vita eccezionale hanno figli e vivono normalmente questa la trasfusione è una delle modalità di approccio terapeutico alla talassemia perché quella più moderna chiaramente diventa il trapianto di medollo osseo e l'ultima il trapianto genico che credo che sarà il boom di guarigione per la talassemia dopo un breve incontro formativo i ragazzi delle classi quinti è stata data l'opportunità di effettuare screening gratuiti in mattinata prelievo appena effettuato è andato bene abbiamo l'opportunità di farlo gratuitamente quindi perché non farlo i professori erano già passati per avvisarci di che incontro dovevamo fare e quindi già sapevamo insomma eravamo preparati puntiamo anche quindi non solo quindi alla formazione dello studente dal punto di vista culturale ma anche dal punto di vista umano che sensibilizzazione e informazione sono alla base della prevenzione iniziati ieri i cento passi verso il 21 marzo cento passi verso il 21 marzo altro e altrove ha preso vita ieri a Scicli l'iniziativa di libera associazioni nomi e numeri contro le mafie in occasione della 25esima giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie come detto l'iniziativa ha preso vita nel comune del ragusano nella casa delle culture in corso mazzini un incontro pubblico molto partecipato e che ha portato al centro un ampio dibattito sulla mafia e sulla realtà che deriva dalla stessa sua istituzione ad introdurre i lavori Vittorio avveduto referente provinciale di libera quest'anno molto importante il 25esimo sia di libera e anche la 25esima giornata in memoria delle vittime delle mafie e siamo a ragionare attorno ad un tema quello che è rappresentato da questo slogan altro e altrove ad intervenire Tonio Dell'Olio pro civitate cristiana libera spesso si pensa appunto che il fenomeno migratorio non abbia a che vedere a che fare con le mafie invece sia dall'origine sia nel suo muoversi e nel suo purtroppo attuarsi in maniera tragica tante volte le migrazioni sono di fatto vittima delle mafie stesse presente anche Nello Scavo giornalista di Avvenire è stato un premio importante un riconoscimento ma io l'ho considerato anche un mandato ad andare avanti in questo tipo di inchiesta anche perché quello che noi abbiamo documentato e continuiamo a documentare è che ci sono legami forti tra queste organizzazioni criminali transnazionali governi europei in parte anche con istituzioni italiane in passato e legami fortissimi anche con la mafia siciliana per il contrabbando di petrolio stiamo parlando di cifre vicine al miliardo di euro all'anno a sottolineare aspetti importanti anche Alessandro Di Benedetto psicoterapeuta di Emergency con la riduzione degli sbarchi Emergency ha pensato di svolgere la sua attività offrendo cure gratuite come sempre ha fatto presso la fascia trasformata dove vi sono parecchi migranti che vivono in situazioni di degrado nei tuguri in una situazione proprio di ghettizzazione sfruttamento lavorativo insomma tutta una serie di difficoltà e di problematiche dove i migranti sono esposti a situazioni anche di rischio e con noi sappiamo benissimo come in un contesto di povertà in un contesto di degrado la mafia trova persone da arruolare al servizio del traffico di stupefacenti o per la prostituzione e con questo è tutto grazie per averci seguito buona serata di stupefacenti di stupefacenti di stupefacenti in un contesto di stupefacenti all'infermata a tutti di stupefacenti